Allora, chiarisco subito le mie intenzioni. Questo video non è per stroncare Honor o Honor Magic, in questo caso il V2, però devo dire che da utilizzatore di diversi Fold ho avuto il Fold 1, il Fold 2, scusate, di Galaxy Fold 1, Galaxy Fold 2, Galaxy Fold 4, Pixel Fold e adesso questo. Quando vedo i commenti del 90% delle persone sotto i video di Honor, soprattutto perché è quella che ha fatto più notizia per le dimensioni e il grande vantaggio a livello di hardware sui Fold 2 che ha raggiunto, si fossilizzano sull'hardware e quindi a dire cavolo, com'è sottile, com'è leggero. Quando poi se non hai un'esperienza software ottima, come è quella del Samsung, contro questa, che non è tremenda ma è molto, molto inferiore, le mancanze software di questo Honor lo fanno stare dietro, secondo me, in classifica agli altri Fold 2. Iniziamo il nostro discorso che focalizzerò in macro aree. La prima macro aree è quella del multitasking. La cosa che secondo me è grave, che manca su questo, è la barra del multitasking fissa, che non a caso è stata inserita nel Magic V3. Speriamo arrivi anche questa con aggiornamento software. Per carità, abbiamo questa che viene fuori, però secondo me la gestione è meno immediata. Il fatto che l'abbiamo inserita nel Magic V3 li ha fatti capire che questa è una soluzione nino, quindi già questo fatto secondo me non è positivo. Attenzione a un'altra cosa. Proviamo ad aprire un'applicazione, per esempio. Prendiamo il nostro Play Store, lo mettiamo a destra o a sinistra? Benissimo. Che altre opzioni abbiamo qui? Lo vediamo subito. Scambio verticale, scambio verticale. Niente, non possiamo metterle in orizzontale. Perché? Non si sa. Forse non supportano la divisione orizzontale. Poco male, su Samsung c'è una funzione apposita che forza le applicazioni a dividersi orizzontalmente. Quindi, attenzione, certe volte può essere comodo averne anche due in orizzontale. Questa funzione non è supportata qui, mentre da altre parti sì. Altro punto che non va bene. Altra cosa che io onestamente non gradisco. Entriamo in un'app, abbiamo un'app a tutto schermo, ci arriva una notifica. Possiamo decidere che alcune di queste app, una volta cliccate la notifica dalla barra delle notifiche, che si aprono solo in pop-up, in modo che noi guardiamo la notifica, la chiudiamo e non ci disturba quest'app qui. Ottimo. Il problema è che una volta che tu decidi quel comportamento, farà sempre così. Per esempio, io Whatsapp l'ho messo. Quindi adesso io aprirò la tendina delle notifiche, aprirò la notifica e mi si aprirà in pop-up. Ma se io volessi aprire Whatsapp a tutto schermo, perché non lo so, mi hanno mandato una foto, un video, lo vedo a tutto schermo, è un passaggio in più, perché guardate, tiro giù, ha una notifica e come vedete si apre in pop-up. Se adesso io questa volessi vederla a tutto schermo, devo schiacciare l'icona e andare a tutto schermo. È un comportamento, secondo me, che non è intuitivo questo. Su Samsung cosa succede, come funziona? Funziona che quando arriva la notifica e schiacci, ti apre tutto schermo. Tieni schiacciata e la trascini e la puoi aprire in qualsiasi modo, in pop-up, in finestra laterale, in finestra orizzontale. Questo, secondo me, è un comportamento furbo. Altra cosa, andiamo in Gmail e proviamo ad aprirla in modalità, come dire, posso chiamarla portrait, no? Che in realtà è landscape, ovviamente, in modalità landscape. Vedete cosa succede? Sotto rimane nero. Perché? Perché non si capisce perché alcune app si aprono, restano, come dire, a tutto schermo, anche se pieghi lo schermo. Altre rimangono qui perché si attendono forse qualcosa sotto una schermata di servizio. Su Samsung, per esempio, c'è una schermata di servizio con dei controlli che ammetto essere un po' banali, no? Però almeno non lascia un schermo così, sembra rotto, no? Sembra rotto lo schermo sotto. Sembra che è solo funzionante metà schermo. Perché? Non si capisce bene. Se poi io apro tutto, ovviamente fa così. Passiamo poi al launcher, che secondo me è una roba incredibile. Esempio banalissimo. Cosa che hanno tutti, ma tutti ormai dall'alba dei tempi su Android. Doppio tap sullo schermo per chiudersi? Niente, niente. Stato costetto a dover mettere questo cacchio di widget per bloccare, ma si può fare una roba del genere del 2024. Poi in realtà al contrario va, no? E allora perché non l'avete fatto anche, come Dio comanda, col doppio tap a chiudere? Non si sa. Poi, altra roba che io odio, questa forse rientra in questione di gusto, la tendina che è divisa in due. Cioè se apri da qua, vedi le notifiche. Se apri da qua, vedi il centro di controllo. Io lo odio perché quante volte noi siamo col telefono aperto in mobilità e facciamo così, no? Per andare giù a vedere una notifica. Non si può, perché ovviamente sono a destra col dito. Per vedere le notifiche cosa devo fare? Devo fare uno sforzo incredibile, portare pian piano le dita dietro verso la parte superiore del telefono, in modo da alzare il pollice, fare così e finalmente andare alle notifiche. Cosa che invece non succede con un device come Samsung, ma quasi tutti gli Android, che tiri giù ed è tutto condensato in una. Andiamo un attimo al centro di controllo, dove qui abbiamo la possibilità di inserire i toggle che vogliamo noi, tra cui due di questi, no? Pannello suggerimenti a io, cioè se li lasciate vuoti, lui in base all'intelligenza artificiale ti sceglierà qual è il più comodo momento per momento. Non ho ritrovato grande intelligenza artificiale, tant'è che mi sono messo io. Il problema è, ma è possibile che io una volta che ho questo, voglio scambiarlo, magari mettere torcia a sinistra e questo qui a destra? Non posso farlo, non posso. Cioè tecnicamente dovrai togliere questo, mettere la torcia a sinistra e mettere questo a destra, una follia totale. È una cavolata questa, però secondo me mi fa capire come dietro non ci sia un ragionamento sullo user interface molto serio, diciamo, da parte di Odor, o quantomeno sulla possibilità di avere più scelte. Passiamo poi al drawer, come dicevo via, in alto le consigliate non si può rimuovere per forza da tenerselo, qua non si può creare cartelle nel drawer, non si possono nascondere app nel drawer, non lo so, io ho tra l'altro poche app rispetto alla media, mi rendo conto, ma anche solo queste, io tante di queste le userò una volta al mese, non voglio che mi intasino. Una volta che entro nel launcher voglio trovare quelle 20-30 che uso di solito, a primo colpo, non andare a cercare dov'è, 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 alcune che non utilizzo praticamente mai, non so, la gestione della sim, le nasconderei o le metterei in una cartella apposta, non si può. Altra roba che non so come mai a me intanto capita, vedete che, cioè, oh, non so perché, questo movimento fa difficoltà, sarò io che non sono buono, però ragazzi, uso swipe ormai dall'alba dei tempi, anche qui su Android, eppure un sacco di volte mi trovo, forse se lo prendi troppo sotto, lui crede che stai andando al multitasking, però il multitasking che se lo tieni a lungo, no? Se tu lo fai subito così dovrebbe far andarti, diciamo, nel drawer, invece devi essere bravo a prendere esattamente nel punto giusto. Tante volte non immaginate quante ne tiro, sai, in mobilità, quando c'è un'altra mano occupata, sei di corsa, eccetera, non è sempre, adesso io sto facendo per il video, ah, guardate come viene veloce, no? Lo sapete tutti, no? Piove, eccetera, la mano non è facile da certe volte fare le robe velocemente. Ecco, è il primo telefono con cui ho problemi a, tante volte durante il giorno, a tirare su questo benedetto drawer. Altra roba folle che vi devo far vedere, piglio per curiosità, guarda, una e poi un'altra app, quindi creiamo una cartella e noi creiamo una cartella, no? Questa cartella è qua, bene, poco male, no? La puoi anche ridimensionare, questo è carino, per esempio, non l'ho visto in altri telefoni, va bene, la puoi rinominare, la puoi rirestringere, bene, non puoi cambiare lo sfondo, eccetera, va bene. Non mi interessa più sta cartella, guardate ragazzi, non... Cioè, ho deciso che non mi interessa più, la cancello. Non si può, non si può cancellare, non si può. Quindi cosa devi fare? Tu da bravo cristiano, prendine una, rimuove, prendine una, rimuove, ne rimane una sola e rimuovi. Incredibile, cioè, pensate quando create, ma soprattutto anche in pari fasi di accensione, se fosse una cartella con dentro nove app, forse quelle di Google, una per una a togliere. Cioè, ragazzi, ma siamo nel 2024. Un'altra cosa collegata, secondo me, alla barra delle applicazioni è lo scarso sfruttamento di questo schermo. Ragazzi, abbiamo un bellissimo schermo così largo, e tu mi dà la possibilità di mettere solo 5 icone qui in basso? Cioè, qui ce ne sarebbero 6, minimo, ma anche 7, 8. Cioè, guardate anche i bordi che ci sono nella terra, secondo me è sfruttata male questa griglia, e non ci sono altre griglie, attenzione, nel senso che puoi fare un 4x6 se vuoi, però attenzione, io ve lo faccio anche vedere il 4x6. Vedete che ne ha 8, il problema è che queste 3 sono 3 multitasking, nel senso che lui, le ultime utilizzate, te le mostra qua per comodità. Io non posso gestirmene, no? Se io volessi 8 icone decise da me, non posso. E questa è un'altra roba, secondo me, assolutamente folle. Cioè, fammi gestire, no? Questa barra come voglio io. Niente, 5 più 3. Come ultima cosa, diciamo che è hardware, ma in realtà riguarda anche il software, è la possibilità di accendere la fotocamera al volo. Qui abbiamo, con l'unica possibilità, schiacciare due volte il tasto volume in basso. Questo ha due problemi, il primo dei quali è incredibile, ma è questo. Io lo schiaccio qua, non si può. Si può fare questa gesture, funziona gesture, non so come vogliamo chiamarla, solo a telefono spento. Quindi è il telefono acceso, devi comunque andare a cercare l'app fotocamera, tant'è che io ho dovuto mettere, prima volta nella mia vita, una scorciatoia alla fotocamera qui per essere veloce. Incredibile. L'altro problema qual è? Beh, è chiaramente questo, che se il telefono è bloccato, quindi in condizione per poter far partire la gesture, vuoi accendere la fotocamera, non puoi farla con una mano. Devi per forza andare con la mano di qua e avviarla di qua, no? E secondo me anche questa è una follia, perché tutti ormai hanno la possibilità di mettere doppio tap sulle pulsanti dell'accensione, perché non farlo non si capisce. E qua il doppio tap non serve a niente, sostanzialmente. Molto bene. Aggiungo un paio di cose sul software relativamente all'Android Auto, che non ha grossi problemi, se non che, non si sa perché, una volta che siamo in auto con Android Auto attivo, non funziona l'Always On Display sul telefono. Forse lui dice, siccome ho già un mirroring, diciamo, del telefono sullo schermo dell'auto, non serve che io mostri orario, notifiche, eccetera. Non mi sembra corretto, ma vabbè. E poi è il primo telefono con cui ho avuto problemi in surriscadamento in auto, utilizzandolo certo d'estate, che era calda, ma mi era successo anche con i Galaxy, e con il Pixel, e mi dava proprio l'errore. La prima volta che ho visto su Android Auto il pop-upino che scendeva dallo schermo della macchina e c'era l'attenzione sul riscaldamento, e effettivamente stava iniziando a laggare tutto. Prima volta che è successo, forse il fatto di essere così sottile anche a livello di dissipazione del calore, bisogna stare attenti. Finisco il discorso, vorrei dire finisco, perché in realtà è il capitolo più grande sul software in generale, su tutte le cose che mancano. Allora, abbiamo qua in gestione del sistema anche il filtro molesto, è ottimo, ottimo perché comunque funziona bene e ti blocca le notifiche. L'unica roba è che quando ti arriva una chiamata, tante volte ti arrivano, vedete qui, mi ha chiamato 5-4 volte lo stesso numero, la prima roba che credo venga mantenuto, ma chi cacchio è questo? Allora, tu vai qui e dici, fammelo copiare questo benedetto numero, così vado a cercare su Google chi è. Non si può. O lo chiami, o lo aggiungi con sentito, aggiungi il contatto e elimina. Ragazzi, la base, cioè proprio la base, cosa devo fare? Uno screenshot di questa immagine, estrapolare poi con la funzione dello screenshot il testo e poi andarmelo a cercare. Le robe base, incredibile. Altra cosa, abbiamo queste notifiche terroristiche, ci sono delle app che stanno consumando tantissimo, attenzione, attenzione. In realtà sono semplicemente le app che noi abbiamo deciso di escludere dalla gestione automatica del telefono, che è molto aggressiva e tante volte infatti fa perdere le notifiche se non lavorate di fino e quindi lui ogni volta ti viene a dire ho trovato 730 app che stanno consumando, ma no, semplicemente sono io che gli ho detto di girare in automatico perché mi serve che girino in automatico anche in background, in modo che arrivino sempre le notifiche. E questa notifica non si può togliere. Ogni giorno, più volte al giorno, dovrai vedertela. Se vai a provare, avete presente, no, in questo menu delle notifiche, viene esattamente questa dicitura. Non possono essere disattivate. Quindi te le becchi tutto il giorno, tutto l'anno non c'è. Tutti i giorni, tutto l'anno non è possibile. Oltretutto, come tanti cinesoni, anche se vai di fino con togli le esclusioni della batteria avanzata, togli la sospensione, vai in applicazione, accesso speciale, ottimizzazione batteria, non consentite, fai girare in background, fai tutto quello che vuoi. Piangi anche in cinese, alcune notifiche non ti arrivano. E lo noto anche oggi che ho un tablet Galaxy su cui certe notifiche, per esempio di YouTube, li arrivano e qui no. Altra roba abbastanza folle, secondo me, di questo telefono è questa. Mi è arrivata, vedete, a telefono attivo, quindi noi stiamo utilizzando il telefono, ci arriva una notifica WhatsApp, no? Benissimo qua, benissimo qua, nessun problema. Lo blocco perché non lo so, non hai tempo di vederla, eccetera. Chiudi. Always on display. Dov'è WhatsApp? Se tu ricevi una notifica di un'applicazione mentre stai usando il telefono, poi sullo always on display non compare. È come se dicessi, vabbè, ma stai usando il telefono, hai visto che ti è arrivata, perché devo dirtelo? Ma che senso ha? Magari in quel momento non ho tempo di rispondere, blocco il telefono, lo metto in tasca, lo rivedo mezz'ora dopo, mi sono già scordato che mi era arrivata quella notifica, se la vedessi qua, direi, ai cavolo, è vero, è arrivato uno WhatsApp, andiamo a vedere. Non la cancella, lo voglio dimostrare, perché se torno qua, lo sblocco, vedete che c'è ancora? Però è incredibile, se invece arrivasse una notifica a telefono spento, lui la mostra qua, e attenzione, se il telefono è bloccato, come qui, mi arriva la notifica WhatsApp, io sblocco il telefono, e quindi sono qua, la notifica c'è, riblocco il telefono, qui non ci sarà più. Cioè una volta che tu, lui ha ragione in questo modo, una volta che tu il telefono è acceso, hai visto che c'è una notifica, per me, sulla visione di display, te la puoi dimenticare. Follia totale anche questa, secondo me. Altra cosa che volevo farvi vedere, è andiamo al lettore musicale, la facciamo partire, no? Lettore musicale, carino, vai in notch, no? Di solito cosa succede su Android? Che vai qui, e te lo togli, no? Non lo voglio più, basta, basta, non la voglio più, basta, basta, non la voglio più, non la voglio più, come faccio a togliere il lettore musicale? Non si capisce perché, devi andare qua, aprire il notch, e toglierlo da qua. Altra follia, che io veramente non riesco a capirlo. Altra cosa che secondo me, è una roba che ormai hanno tutti i telefoni Android, forse questa è una questione di abitudine, ma è, devo andare a terminare l'app perché non va, cancellare la cache, disinstallarla, milioni di cose che posso fare, normalmente si tiene schiacciato qui, e da qui si va, c'è una I che mi porta là, non si può, cosa bisogna fare? Devo andare in multitasking, andare qua, e tenere schiacciato, finché non mi porta qua, e fai quello che vuoi fare. Non lo so, mi sembra anche questa è una roba più lunga, che comoda. Un'altra cosa che per particolari motivi di questo periodo della mia vita, veramente mi ha fatto urtare il sistema nervoso, c'è una gestione veramente povera del non disturbare, nel senso che abbiamo veramente pochissime opzioni, attivarla o non attivarla, programmarla o no, una specie di ripetizioni nel tempo, e poi puoi dire solo, chiamate, quando non disturbare è attivo, tutte le chiamate comunque suonano, solo quelle dei contatti, solo dei preferiti o di nessuno, i messaggi uguali. però è veramente povera, nel senso che se io voglio che non mi chiami, non vibri nessuno, non suoni nessuno, tranne quello di un numero, non si può. O tolgo tutti i preferiti e lascio un solo preferito, ma che senso ha? E allo stesso tempo, voglio che nessun messaggio mi arrivi e mi venga notificato, ma sì, se mi scrivono su Telegram, non si può. e io arrivavo dal Samsung, che comunque aveva una gestione molto più profonda, salto veloce in galleria, dove non abbiamo sostanzialmente nulla, ma niente di AI, cioè nella modifica di qua, sembrano tantissime, come dire, opzioni, no? Ma per esempio, ragazzi, non abbiamo proprio la roba base, che ormai hanno tutti, no? Ma cancella oggetti, Io faccio così, e mi toglie la sedia, e mi rimane solo SAP, niente. Per fare questa modifica, ho dovuto installare Google Photo, cioè, ma ormai mi sembra veramente la base, no? quello di modificare per quanto si può, non sto dicendo i livelli di nuovi Pixel, o di nuovi Samsung, insomma, ma un po' di AI dovrebbe esserci, niente. Chiudiamo il telefono, torniamo in gestione file, voglio per esempio andare a vedere qualcosa in questa cartella, torno indietro, perché non torna indietro? Cioè, nella mia testa, se torno indietro, io sono Facebook, se torno indietro dovrebbe andare a DCIM, e se poi torno indietro torno a telefono, no? Se torno indietro torno alla schermata principale. L'unico modo che hai per farlo è questo, con lo swipe da qua va, non so, uno potrebbe dire la doppia scelta, secondo me è un po' una mancanza di coerenza, no? Un indietro fa una cosa, l'altro indietro fa un'altra, boh. Oh, vogliamo fare un bello screenshot di questa schermata? Ottimo! Tatatata, sì, cos'è? Cos'è che c'è? Oh, per un attimo ho dissolto lo sguardo, lo screenshot l'ho fatto, non, 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 non sono riuscito perché mi hanno chiamato a fare altro, scomparsa, non c'è la notifica di uno screenshot, ma è, cioè incredibile, mettete in questa cosa succede, vi fanno una chiamata, una telefonata, che dura dieci minuti, pensate a tutt'altro, poi ritornate a fare lo screenshot e dite, l'avrò fatto o non l'avrò fatto? E magari lo rifai, oppure vai in galleria per vedere se l'hai rifatto, una roba incredibile, anche questa, niente notifica di uno screenshot, relativamente sempre a questo screenshot, a me sembra un'altra follia, ribadisco, siamo in 2024, sono qua, questo è un video che ho scaricato da internet, ma vale anche per i video girati da noi, non c'è la possibilità di fare uno screenshot del video, non si può, cioè devi fare proprio, cioè di solito c'è un tastino, no, che ti scarica la foto, il frame di quell'omento, a foto, niente, bisogna per forza fare uno screenshot e poi ritagliarlo, cioè, è una roba incredibile ragazzi, è una roba incredibile. Andiamo avanti a parlare un po' dell'hardware su cui onestamente c'è poco da dire, perché ribadisco, su questo siamo veramente al top, vi segnalo come non posso aprire a tutte le cose che voglio, cioè, o apri così, attenzione, vado giù, vado giù, vado giù, vado giù, boom, e Samsung, la cerniera di Samsung ha molte più possibilità di tenere molte più angolazioni, che non è una cavolata in certi casi, soprattutto di luce particolare, in questo poi cosa si riflette? Magari in una cerniera più pesante, in una cerniera che magari fa vedere più, il solco qui tra i due schermi, poi però sui social, su YouTube, guarda come si vede la piega di Samsung, ah 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 ah, sì ragazzi, dobbiamo vedere la cosa a 360 gradi, quindi probabilmente è più brutta da vedere, però poi nell'uso di tutti i giorni, meglio la piega e la cerniera di Samsung. Per carità, è sottilissimo, è leggerissimo, ha la piega che non si vede, non ha la ricarica wireless, e non ha la protezione dai liquidi, che Samsung è già forse dal 5, se non dal 6, comunque è molto più avanti, quindi sono delle renunce e bica da poco eh. Ok, direi che con questo ho finito la panoramica, delle cose che volevo dirvi, ditemi cosa ne pensate poi nei commenti, attenzione, qui non si sta dicendo una cosa diversa, dal fatto che Samsung deve cambiare, deve continuare a migliorare, deve arrivare al livello hardware degli altri, però noi continuiamo a dirlo negli anni, Samsung ogni fold è uguale a quello dopo, sei sempre troppo spesso, guarda cosa fanno OnePlus, Xiaomi o Honor, però poi nessuno che vada a dire, sì ragazzi però Honor è fantastico, ma che software ha? Nessuno che lo vada a dire, quindi questo era il mio obiettivo, non certo screditare Honor, non certo dire che Samsung è perfetta, però bisogna avere un minimo di equilibrio nelle cose, ditemi cosa ne pensate, se pensate che quello che vi ho mostrato qui è esageratamente critico, o come penso io secondo me, Honor deve farne di strada a livello software.